Ben ritrovati ad una nuova puntata della nostra rubrica Un medico in famiglia con il nostro dottor Carlo Gargiulo. Salve! Salve, salve a tutti! Bentrovati! Allora, oggi vi presentiamo una clip video che ci arriva da un ragazzo che si chiama Luigi da Napoli. Vediamo insieme che cosa ci chiede. Salve, sono Luigi, ho 33 anni da Napoli. Volevo chiedere al dottore Gargiulo, avendo sia mamma che papà diabetici, ogni tanto faccio dei controlli per vedere se sono predisposto. Mi esce sempre negativo, però ogni tanto dopo pranzo, dopo circa due ore, faccio il controllo della glicemia con l'apparecchio col pungidito sopra il dito. Mi esce sempre un po' al di fuori della norma. Addirittura a volte arriva a 200. Come mi consiglia approfondire o prevenire questa cosa? La ringrazio. Allora Carlo, che cosa possiamo rispondere a Luigi? Ma intanto la prima cosa che dobbiamo dire a Luigi è che questa familiarità va seguita come lui effettivamente fa. L'altra cosa, lui vuole approfondire la problematica che ha notato con questi rilievi che fa con queste strisce per la glicemia. E allora io direi che gli esami del sangue approfonditi possono essere sicuramente l'emoglobina glicata, che è un esame che ci consente di valutare le glicemie a digiuno nell'arco degli ultimi tre mesi, quindi fa una sorta di media di queste glicemie. Ancora io farei, se la glicemia basale è normale, come dice lui, una curva da carico glicemico, cioè con la somministrazione di una quantità fissa, 75 grammi di glucosio, e controllare ogni mezz'ora l'andamento della glicemia. E una curva insulinemica. Che cos'è significa la curva insulinemica? L'insulina è l'ormone che consente di metabolizzare gli zuccheri e farli entrare nelle cellule, quindi la curva insulinemica serve a vedere se il suo pancreas, che è l'organo deputato a produrre questa insulina, se il suo pancreas funziona bene in risposta al carico glicemico. Mi spiego meglio. Entra lo zucchero, il pancreas deve rispondere con l'insulina, tanto zucchero, tanta insulina. Se così non funziona, bisogna poi allora capire che cosa si può fare per aiutarlo. Intanto però la buona norma che vale per tutti è quello di avere una dieta dove gli zuccheri semplici siano ridotti e soprattutto una dieta che abbia una quantità di calorie tali da farci mantenere il nostro peso forma. Quindi diciamo calare un po' di peso potrebbe già essere un buon inizio, una regola che tra l'altro vale per la prevenzione di tutte le malattie. Esatto, il sovrappeso è nemico del nostro corpo, è nemico del nostro cuore, è nemico del nostro cervello, è nemico dei nostri reni, ma è soprattutto il nemico che più di tutti ci fa aumentare la glicemia e fa soffrire il nostro pancreas. Certo. Bene, Carlo, Luigi nella clip faceva riferimento al fatto che nella sua famiglia hanno tutti il diabete, quindi la familiarità sicuramente è un fattore di rischio, ma quali sono gli altri fattori di rischio per il diabete? Allora, intanto una piccola distinzione, non dobbiamo più dire il diabete, ma dobbiamo dire i diabeti al plurale, perché in realtà sono due malattie completamente diverse, il diabete di tipo 1, cosiddetto diabete giovanile, che è quello che si cura soltanto somministrando insulina, e il diabete di tipo 2, che è il diabete delle persone in sovrappeso, e che è il diabete, una volta lo chiamavamo degli anziani, ma oggi gli anziani non esistono più, quindi chiaramente è un diabete delle persone un po' più avanti negli anni. Ecco, questi sono due forme completamente diverse. Il diabete di tipo 1, come dicevamo, è una malattia autoimmune, per cui il nostro organismo distrugge il pancreas, distrugge le cellule che producono l'insulina, e questa mancanza di insulina provoca il diabete. Il diabete, e quindi compare già in giovane età, va curato con, come dicevamo, con la somministrazione di insulina, e va seguito molto attentamente. Il diabete di tipo 2, invece, dipende molto, fra i suoi fattori di rischio, dal sovrappeso, l'obesità, tutte quelle componenti, un'alimentazione, una dieta che sia troppo ricca, di zuccheri semplici, perché anche i tuoi affaticano un po' il nostro pancreas, e poi ancora una vita sedentaria, il non fare attività fisica, significa costringere l'organismo a un metabolismo molto più faticoso degli zuccheri, e quindi, vuoi o non vuoi, alla fine porta verso uno scompenso tra insulina e zuccheri. Diciamo anche un'altra cosa che possa essere di interesse per chi ci sta seguendo. Il peso, l'hai citato, quindi l'alimentazione, pensi al diabete, pensi allo zucchero, e quindi pensi ai dolci. È l'unico nemico di un soggetto diabetico il dolce, oppure possono dare altri suggerimenti? Allora, quando parliamo di dieta corretta per il diabetico, dobbiamo renderci conto che non è soltanto lo zucchero il nemico da sconfiggere. Diciamo meglio, gli zuccheri semplici, che sono dallo zucchero che noi mettiamo nel caffè ai dolci, a tutti quegli zuccheri che nel nostro organismo immediatamente mettono in moto il pancreas, sono i nemici principali, proprio la prima linea dei nostri nemici. Ma gli zuccheri sono contaminati, anche in tanti altri alimenti. Non ci pensiamo, ma tante volte la frutta in eccesso può provocare una sofferenza per il nostro pancreas. Il pane, la pasta, anche questi possono essere un po' alimenti che creano qualche problema con il pancreas. Cosa fare? Non è che possiamo eliminare tutto, ma dobbiamo cercare di spostarci dagli alimenti raffinati, il pane bianco, la pasta raffinata, ad alimenti che siano un po' più grezzi, cioè tutti gli alimenti integrali. La pasta integrale, quella un po' più scura, il panno integrale, quello un po' più scuro. Perché dobbiamo spostarci su questi? Perché un altro elemento importante, oltre alla quantità di zuccheri contenuti negli alimenti, è la velocità con cui questi zuccheri vengono assorbiti. Il cosiddetto indice glicemico. Un alimento può contenere, faccio per dire, 10 grammi di zuccheri, ma se questi 10 grammi entrano da attraverso l'intestino, vengono assorbiti in 10 minuti, hanno un peso. Se vengono assorbiti in un'ora, hanno un altro peso. Quindi questo porta alla differenza. Gli alimenti grezzi, di solito vengono assorbiti più lentamente, quindi hanno un indice glicemico leggermente più basso e ci consente di vantaggiare una quantità leggermente maggiore. Insomma, è un bilanciamento attento, magari fatto con l'ausilio di un nutrizionista, se non vogliamo ricorrere a uno dei tanti schemi che troviamo anche su internet, ma insomma, farsi dare un consiglio da un nutrizionista potrebbe essere molto utile. Anche perché, al di là, diciamo, della terapia per tenere sotto controllo l'insulina, è importante gestire il diabete perché può comportare delle complicanze, no? Quali sono quelle più temibili? Certo. Il diabete è una patologia silenziosa, silente. Il diabete praticamente si muove nel nostro corpo e noi tante volte non ce ne accorgiamo se non quando raggiunti alcuni livelli elevati di glicemia cominciamo ad avere una sete intensa o ad avere una emissione di urine in quantità abbondanti. Allora a quel punto potremmo sospettare. Ma quando arriva quel momento il diabete ha già fatto i suoi danni. I danni sono prevalentemente sul sistema circolatorio. Quindi quando si vanno a colpire le arterie si va a colpire il cuore, il cervello, i reni e un po' più lentamente per fortuna anche il fegato. Ma questi sono i danni che vengono più a lunga scadenza. Non dobbiamo dimenticarci che però le arterie sono importantissime anche per gli occhi e quindi può avvenire una retinopatia diabetica cioè un danno sulla retina dovuto a una cattiva circolazione. Non dimentichiamoci che il diabete è la prima causa di cecità nel nostro paese quindi si diventa veramente si perde la vista fino a diventare cecchio. E poi c'è anche un'altra complicanza molto importante che è il cosiddetto piede diabetico. Le estremità soffrono quando il sangue non riesce ad arrivare fino alla periferia soffrendo si comincia a creare un'ischemia cioè una riduzione di sangue che arriva in periferia fino ad arrivare a una vera e propria necrosi cioè alla distruzione delle cellule e dei tessuti e anche lì è una causa frequente di amputazione di uno o di entrambi gli arti. Insomma il diabete non va preso sotto gamba il diabete è una patologia che va curata perché può essere curata a volte con rimedi semplici che sono soltanto una dieta corretta ed un'attività fisica altre volte ricorrendo assiste alle medicine tradizionali o all'insulina. Certo ecco infatti l'ultima domanda che voglio farti è questa abbiamo capito che comunque è una malattia da tenere sotto controllo ma che spesso è anche difficile proprio da controllare perché richiede un monitoraggio costante dell'insulina e leggevo che la difficile gestione di questa malattia in particolare della terapia insulinica fa sì che oltre 7 persone su 10 con diabete di tipo 1 non raggiungano un buon controllo glicemico allora ti voglio chiedere come chiusura che consigli possiamo dare per un miglior controllo della glicemia e anche se ci sono delle novità che possono aiutare il paziente a gestire meglio sicuramente essendo il diabete di tipo 1 un diabete giovanile bisogna insegnare ai ragazzi a prendersi cura del loro diabete è una cosa che le associazioni dei diabetici dei giovani diabetici fanno insegnano e danno questo input per riuscire perché si può controllare il diabete parliamo di diabete di tipo 1 quindi diabete insulino dipendente si può controllare perché dosare l'insulina esattamente in relazione ai pasti e dosare l'alimentazione in relazione all'attività fisica può portare ad un ottimo compenso della glicemia oggi i sistemi per misurare la glicemia sono molto semplici diciamo che sono anche abbastanza innocui perché la punturina sul dito è diventata una cosa molto facile da fare con i pungidito meccanici la striscia per il controllo viene fornita grazie al nostro sistema sanitario nazionale ai soggetti che ne hanno diritto fornita in quantità tali da potergli far controllare bene il loro diabete e fargli dosare esattamente l'insulina cosa c'è di nuovo beh diciamo che di nuovo ci sono una novità dal punto di vista del controllo glicemico delle dischetti che si applicano sulla pelle e appoggiando su di essi un apparecchietto un apparecchio che viene fornito insieme ai dischetti stessi compare sul display il valore della glicemia di quel momento è un valore di glicemia istantanea che noi possiamo leggere senza la puntura quindi anche quel minimo fastidio può essere tolto e ci consente di capire quello che dobbiamo fare dal punto di vista della terapia e dell'alimentazione un po' di tempo fa si era parlato poi è andato un po' nel dimenticatoio di una lente a contatto che addirittura contenesse nel suo interno un misuratore della glicemia nel valore dei zuccheri nelle lacrime e che potesse dare su un display il valore stesso della glicemia poi non so perché non è stato quasi fantascienza questa sembra fantascienza cioè guardare lontano e sapere che vale il vostro valore di glicemia ma sicuramente ci arriveremo come arriveremo a quello che è poi il desiderio di tutti i diabetici soprattutto i diabetici di tipo 1 la pompa da infusione continua probabilmente un micro un micro innesto da mettere sotto la pelle da rifornire con l'insulina la mattina e durante il giorno dall'insulina in rapporto a quello che serve fantascienza io non credo perché ho visto tanti progressi della medicina in questi anni che ho fatto il medico e non mi verveglierei più di nulla assolutamente anche il covid insomma abbiamo visto che quando si corre vuole arrivare arriva arriva tutto esattamente allora per questa puntata noi ci fermiamo qui grazie al dottor Carlo Gargiulo che tra l'altro è tornato in Rai possiamo vederlo oltre che su Medicare mi raccomando guardatevi a guardare anche le precedenti puntate di un medico in famiglia ogni sabato mattina su Rai 1 buongiorno benessere insieme a una collega Vira Carbone che saluto è così giusto Carlo il sabato mattina a che ora? alle 10 intorno alle 10 10 10 e 20 e vario quindi anche lì lo ritroviamo intanto prima di salutarci vi ricordiamo chi volesse mandare la clip video oppure se siete più timidi non avete voglia di girare il video potete scrivere a infochiocciolamedichea.it per mandare le vostre domande al dottor Gargiulo che poi vi risponderà come abbiamo fatto oggi grazie grazie a tutti arrivederci arrivederci